Niente mi preoccupa, non sono di stoffa fra, sono fatto con la roccia cattedrale Notre Dame, dammi roba magistrale, fuck it la produco, dame, come puoi fottere Dini, voi Brancodirini, dame, no lo milanese dove il giorno in mano ha l'ipsterame, poi la notte ai peruviani, agli arabi, alle nigeriane, da dove parte il suono crudo che uso da tappeto, dove anche l'arte fa da scudo, il tuo vedo non vedo, raduno le forze, ho bisogno di merda più fresca, quattro anni in silenzio, la stampora chiede vendetta, non chiudi la musica dentro una nuova etichetta, ti ludico i fumi che quello che hai detto poi resta, ribalto i pronostici, vengo a distruggere tutto, tramando i miei poster in merda che spinge di brutto, tu guardati i poster di gente che finge di brutto, mi chiedi una foto ma sai solo foto di gruppo? Yeah, yeah, ma buon mese. Non vado avanti dai, mettiamo spazio alle domande dei ragazzi. Ma no, ma io lancerei un format in cui Bassi Maestro fa live tutta la sua discografia. A cappella, una roba interessantissima. Quanto durerebbe una vita?